In casa Gigliata è il giorno di Gianmarco Bertetti e Yannick Giombini, esterno e lungo entrambi i classi 2001. Il primo arriva da una stagione a Vigevano in A2, confermandosi così un giocatore importante di prospettiva della categoria. Il secondo, dopo qualche stagione in B, ha finalmente trovato nella Juve una formazione in grado di dargli spazio in Serie A. Dopo i primi test stagionali e un campionato che è ormai alle porte, i Giliati sono fiduciosi. Capire a che livello del campionato siamo, ci ha fatto capire su molte cose di cui dobbiamo lavorare e poi abbiamo avuto anche la fortuna comunque di fare un torneo dove ci siamo messi a confronto con due squadre di alta classifica di questo campionato, dove abbiamo reagito bene, dove a livello fisico non abbiamo sofferto e sicuramente questo è stato un passo avanti e ci ha dato anche fiducia e ora siamo pronti per iniziare le vere partite. Sono d'accordo anch'io con Giamma, sicuramente il test di Modena ci ha dato fiducia e anche con Piacenza rispetto alla prima amichevole siamo cresciuti molto e quindi siamo pronti per affrontare al meglio la prima del campionato. Per entrambi la chiave del passaggio in Juve è stata Coach Becchi. Coach Becchi è stato tanti anni nella mia città, mio papà è uno che lavora nel settore del basket quindi lo conosce e la chiamata di Coach Becchi sicuramente è stata importante e poi per come ne parlano in giro fra giocatori è un allenatore che sicuramente ti spinge al limite e prova a farti migliorare su qualsiasi aspetto del gioco e credo che parlo per tutte e due e per la nostra età è fondamentale avere un allenatore così. Anche a me mi ha chiamato prima di firmare, mi ha convinto subito, cercavo una o due dopo tanti anni di Serie B, cioè 3-4 anni di Serie B e me l'hanno tutti consigliato quindi sono contento per l'opportunità.